Foto, oddio, oddio, cos'è que... Ciao a tutti ragazzi, oggi ritorniamo in live commentary Dopo un po' di tempo che non ne facevo uno Siamo su Battlefield 1 E oggi, vabbè, giocheremo appunto una partita Non so, non so voi, io per comodità voglio fare dominio Però, o mi piace di più conquista, però Non so quanto possa continuare a registrare Oppure magari ci facciamo questa nuova modalità Che è una nuova modalità di Battlefield È una modalità in cui bisogna attaccare dei rifornimenti Che cadono dal cielo Proviamo? Adesso vorrò fare un po' di supporto Perché io, ragazzi, consiglio molto questa arma E noi, come sempre, ci ritroviamo in partita Adesso l'obiettivo, come ho detto Come mi sembra di aver detto Era quello di conquistare Eh, già qua ci spara un cerchino E di conquistare Questi rifornimenti che Andando avanti nel tempo Ci daranno Dei punti, insomma Per quello che ho capito In realtà Là c'è un cavallo Questo assalto Questa Eh, vabbè Allora Andiamo avanti Andiamo avanti Nella buca Belli, belli Tranqui, tranqui Aspetta Oddio Quella l'aveva fatta esplodere Bene Allora 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 Ah, eccolo Abbiamo colpito Muori E' molto forte questa arma Eh Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Eh, muori Vedi, doppia Dai, dai, dai Vediamo un po' che c'è qua Riuscirò a colpirli no vabbè dove andiamo vabbè ritorniamo dietro qua c'è uno scout gravata eh quello è morto andiamo un po' no no mortaio fa un bagno dai nasciamo bene andiamo avanti non c'è nessuno ah no eccolo va 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 muori figlio di puttana storronzo non è altro quel coglione crepa cretino no no idiota io devo misciarmi le mele coglione muori deficiente che cretino che non sei sto ammazzando la sentinella guarda dove era camperato quel deficiente guarda dove era camperato ma ammazzati imbecille sparatelo un colpo con una magnum no deficiente c'è un deficiente là un nuovo lancio di rifornimenti toh imbecille muori devo sparare a raffiche controllate bene perché se sparo in full auto tutto completamente nooo imbecille che non sei altro dai però vabbè dai almeno sono avrò rato di due cos'è che ho cristo caro armato via stai giù guarda guarda un esemplare di uomo col fucile a pompa è una specie in via d'estinzione uuuh oddio via oddio via oddio via 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 subito via madonna che culo che non mi ha visto oddio toh prendetelo nel sedere prendetelo prendilo nel sedere toh imbecille guarda questo è camperato è camperato l'ho ucciso assolutamente guardalo ciao imbecille muori è lì la mia Malsin non ci arriva che tra l'altro è un'arma molto letale il Malsin i rifornimenti in questa posizione sono stati esauriti ah vedi adesso ogni volta che che c'è il rifornimento ti danno il no giù c'è Kino via muori no come ha fatto come ha fatto ad uccidermi con un colpo dai salta madonna è possibile che in Battlefield c'è sempre questo bug che no c'è Kino un altro un altro un altro via via al riparo al riparo al riparo da quel cecchino rognoso tra l'altro via eccolo mi sta guardando da lì eccolo un altro eccolo un altro va 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 è lì non ho un albero c'è che deficiente qua in campo aperto è pericoloso andare senza una solida cos'è quello mi ha visto forse tu non mi vedi tu non mi vedi fammi andare via fammi andare via fammi andare via uuuh volevi 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 gradivi proprio cristo da dove deficiente guà guà tutti i camperati di sotto tutti i camperati di sotto ah guardate cosa ho sbloccato il veterli vitali in pratica è un martini r migliore vedi vedi io spot l'oro foto oddio oddio cos'è quella cosa cos'è quella cosa spiegamelo io ti ascolto un nuovo lancio di rifornimenti è in arrivo iniziamo a conquistare questo comunque anche la p08 è devastante io quella del barone rosso anche vabbè non è che ci sia differenza però quello lì me l'hanno incruccato per non dire altro e io quella del barone rosso anche essere molto forte però vorrei capire anche come si rimpicciolisce l'attacca a led quello lì il mirino fiero insomma quello che ti permette di sparare in uno scoop perché quelli su pc riescono a farlo diventare più piccolo senza ruppi sensi ovviamente dai la voglio io la nuova cassa togliti bravo incendia tutto tu si che sei pro tu si che sei uno che sa giocare oddio cavaliere grandi che l'avete ucciso oh sembrava che cioè stavamo perdendo adesso no ma idiota ma lascialo a me che c'avevi già il flammiere fida che deficiente oh che imbecille che idioti che ci sono su battlefield adesso cioè ormai battlefield è popolato da deficienti popolato da deficienti tra cui certe volte io eh perché anch'io non è che però almeno io cerco di dare una mano alla squadra conquistando i rifornimenti e altri no vanno in giro e si fanno i cacchi loro come ogni giocatore di call of duty fa ciao imbecille muori non ti vuole nessuno dai 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 sì sì tienito tienito io voto tizer sim perché è una mappa molto bella secondo me abbiamo pure vinto crepate dovete crepare crepare di sconfitta dovete crepare astro ungarci con l'acqua sulle due teste sono contento che siete morti sono contentissimo che siete morti chi più non si può ah dei crucchi i crucchi ovviamente squadra migliore Apple Apple è stata la squadra migliore liscia mille mele guarda con la cosa lì del caricatore dell'MP18 su per le balle eh no non ci sono io va bene 1.85 vabbè potremmo fare di meglio però mmm spacchettiamo spacchettiamo noi però spacchettiamo il battle pack migliore di tutti noi spacchettiamo oh mamma mia che c'è nel menu dei battle pack spacchettiamo il battle pack superiore spacchettiamo il battle pack spacchettiamo il battle pack tanto questi non li uso mai non me ne frega niente dai via 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 partita pronta no perché tanto devo aspettare un altro della versione dello Zor si madonna si dai poi si apri bene questo battle pack no ce l'ho già ce l'ho già no no per i rigotti questo va a scartare oh dai 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 cerchio 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 e righe momento delle righe però adesso proviamo a fare una cosa solo pistola ovviamente guarda il soldatino tutto fiero l'innevato grande tu sei che sei uno che ce ne si sa fare di leguarsi ma cosa che devo fare completa tre soccine in primi passi aaa questi questi sono quelli tipo di battlefront e di battlefield 4 che in pratica ti ti davano la la riduzione della della ricarica della vita se non sbaglio e sono tipo gli attributi di battlefront ok adesso adesso ho capito e se non sbaglio per farli bisogna bisogna completare degli incarichi che troveremo praticamente nel menu di di caricamento adesso ho capito meglio ciao imbecille muori non ti vuole nessuno nessuno ti gradisce nessuno ciao rimaniamo camperati qua questo quello è pericoloso stai calmo non sono molto gravi come bravo tu si che col pompa sei uno che ci sa fare addio imbecille dai dai conquistiamo i rifornimenti conquistate i rifornimenti e così guadagniamo punti a terra uh meno male che c'è la cassa a salvarmi sono crepavo dai dammi il med bravo che mi ha dato il medikit bravo chi è chi è conquistate i rifornimenti bravi rimanete qua rimango anch'io però qua serviamo a poco niente ok qua ci sono già quelli che conquistano io vado mi interessa che devo conquistare quegli altri cioè perché se no alla fine non ci muoviamo andiamo con la p08 del barone rosso qua c'è qualcuno nessuno si muova mani in alto che vi uccido se no bravo e riegel via 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 nemico colpito nemico colpito l'hai ucciso bravo tu sai che sei bravo dai anch'io dai papà no ma come no sweet spot di merla dai papà papà vieni oh questo qua f dai la community i deficienti dai papà oh che fatica papà che fatica che fatica papà oh eh dai dai venite eh se no io me ne vado oh qua ho lì al federo lo devo sbloccare anch'io magari in questa partita lo sblocchiamo assieme forse se muoio vediamo se riusciamo anche a fare la nuclear speriamo oh lì si stanno conquistando il punto ragazzi dai dai su reattivi su reattivi ma dov'è che è questo ma come ho fatto a non vederlo no come ho fatto a non vederlo la mia deficienza ci sono passato sopra e manco l'ho visto manco l'ho visto cioè tu guarda io tu guarda io come sono messo dai dai cosa che non capisci dai di o hai vivi non vuole vivere quello là eh io mi rispondo qua perché io mi volevo vendicare di quel deficiente camperato spottate spottate dovete spottare con r1 non è difficile oh mio dio quello è cattivo eh dai p08 tu sei una pistola forte dai rimaniamo qua all'obiettivo così guadagniamo tanti punti perché è una modalità che si guadagna molti punti anche più di conquista perché conquista adesso ciao con i rigotti vengo io ad aiutarti amico io sì che sono un medico no 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 vedi per aiutarlo sono morto è questo che devo fare ogni medico bravo che mi aiuti anche tu sei un bravo medico no 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 non voglio rischiare dai dai rifornimento dai sbrigati dai andiamo via 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 prima che ci uccidano forza stiamo vincendo ma tipo una voce da robot stranissimo qua non vedo nessuno dai andiamo andiamo lì che qua è anche una zona abbastanza protetta stiamo qua perché spari a caso spiegamelo ah no eccolo ok aspetta eh faccio una bella cosa faccio come nooo ma come fa con un colpo ad uccidermi me lo spieghi come fa con un colpo cos'è 4-2 mi sembrava 6 però vabbè come fa in un colpo spiegamelo con un colpo ho sciotta questo fucile allora lo uso anch'io perché perché deve sciottare perché è forte ecco perché è la mia mira comunque secondo me le specializzazioni sono una roba tipo a prova di nabbo è un duello a colpi di p08 che vabbè me l'hanno fregato quello là tu cos'è che hai ah hai il hai il fucile quello brutto quello orrendo dai rimani a portata che ti prendo se eri a portata se ti spostai di qualche millimetro eri mio eh vabbè dai si vede che da un po' che non gioco eh bravo spara no ok meno male siamo salvi per un pelo dai intrincea è qua chi è no se c'è qualcuno che mi prende là dietro scalero eh perché vuol dire essere disonesti nel nei confronti del gaming c'è sì guardalo là assistenza fantastico assistentami le mele assistentami ciao imbecille no eri mio quasi cretino che non sei altro deficiente dai due metri uno mamma mia cos'era quello lì è il classico giocatore di squadra fammi modificare un attimo un po' i kit che qua oddio è vero ragazzi vi presento la pistola obrez la pistola più cattiva che c'è in questo gioco in questo gioco la pistola più cattiva oh io vado all'attacco mi interessa 7-3 dai rato di due però non fa niente è comunque un rato buono dai un rato accettabile quello lì è di sopra a a camperare vedi eh vedi vedi che io so sempre tutto individuato mamma mia come forza individuatore l'ultima volta che l'ho usato mi sembrava un po' una schivezza se poi parere personale a me non piaceva l'ultima volta che l'ho utilizzato oh li stanno conquistando quindi dobbiamo andare lì dai dai che abbiamo quasi vinto due vittorie di seguito no 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 il lancia lancia granate no si vittoria subitevela la dovete subire rato di tre bene albion albion assolutamente perché albion è una mappa capolavoro albion è è un capolavoro di mappa vabbè io questa me la gioco per gli affari miei se per voi non è di troppo disturbo se magari non non vi dispiace me la gioco per i cavoli miei perché adesso vabbè la registrazione la concludo noi ci vediamo al prossimo video perché vabbè ci risentiamo nel prossimo video e quindi un saluto a tutti da Marco ciao